Lo hanno sorpreso in sella ad una bici dal valore di alcune centinaia di euro che era stata rubata qualche ora prima in città. Era assieme alla moglie e così entrambi sono stati denunciati dai carabinieri per ricettazione. Ieri pomeriggio, infatti, una donna, residente ad Arezzo, aveva segnalato alla centrale operativa dei carabinieri di essere stata vittima del furto della propria bici, fornendo anche la descrizione degli autori che erano stati visti allontanarsi senza che però la vittima riuscisse a fermarli. Dopo qualche ora i militari della sezione radiomobile del NORM hanno rintracciato i ladri in zona Saione, due coniugi extracomunitari poco più che trentenni, lui con precedenti in Italia. Gli autori del furto sono stati accompagnati in caserma e dopo la completa identificazione sono stati denunciati entrambi Stato di Libertà per concorso in ricettazione e l'uomo irregolare sul territorio nazionale anche per i reati inerenti alla normativa in materia di immigrazione. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.